Fino al 2018 la stella di casa era Malena, mezzo soprano prestata al pop e arrivata ventunesima alla finale dell'Eurovision 2009 a Mosca, sposata con Svante, ex attore di teatro e tv e mamma di due bambine. Fino al 2018, quando la primogenita decide di saltare la scuola. Greta Eleonora Edmund Thunberg, 17 anni, sorella di Beata, inseparabile, quando è a casa, dal Golden Retriever Moses e dall'Abrador Roxy, persona dell'anno per la rivista americana Time nel 2019, candidata al Nobel per la pace, ispiratrice e leader del movimento ambientalista Fridays for Future, che negli ultimi due anni ha spostato la percezione della crisi climatica su scala globale. Ha stretto la mano a Papa Francesco, al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che la invitava a rilassarsi e gestire la rabbia, ha risposto cambiando l'avvio su Twitter. Tranquilli, mi rilasso. Una madre terra adolescente venuta dal freddo. Voce di una generazione che chiede alla politica di spezzare il ciclo di immobilismo, recriminazione e cinismo. Volto di una protesta che sente di avere poco tempo per salvare il pianeta. Corpo che assorbe i colpi degli adulti e incarna la radicalità di un ultimatum. Straniante, un police nel Paese delle Meraviglie, un po' piccolo principe tra pianeti in ospitali. Ho i superpoteri, dice parlando con ironia e poesia, della sindrome di Asperger, che le fu diagnosticata a 13 anni. E ci vogliono superpoteri, oltre alla forza della gioventù, come recita la copertina di Time, per essere un'icona. Per fare tanto sul serio da pretendere che le parole dicano e che l'uomo torni ad abitare il mondo e prendersene cura. Greta si documenta online sul surriscaldamento. Legge tutto quello che può. Convince la madre a rinunciare all'aereo per le tournée e la famiglia a ridurre l'impatto ambientale dei consumi. Vince un concorso scolastico con un tema sull'ambiente, si lancia sui social. Nell'estate 2018, un mese prima delle elezioni politiche, si pianta davanti al Parlamento svedese con un cartello, sciopero per il clima. La stampa se ne accorge, compaiono i primi articoli all'estero. La piccola svedese fa appello ai ragazzi per trasformare il venerdì nel giorno della riscossa. Saltare la scuola per salvare il mondo non è male come idea, funziona. La svolta arriva alla conferenza ONU sul cambiamento climatico del dicembre 2018. La COP24 di Katowice in Polonia diventa Greta Thunberg. Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. Comincia la rivoluzione. Gira l'Europa in treno. Venerdì 15 marzo 2019 il popolo di Greta sfila in 2.000 città e 120 paesi. È lo sciopero mondiale. Per raggiungere New York e partecipare al summit ONU sul clima del 23 settembre 2019 attraversa l'Atlantico in barca a vela. Ma di fronte alle promesse e all'inazione dei grandi la rabbia cresce. Avete rubato la mia infanzia e i miei sogni, dice con le lacrime agli occhi. Chiede che la politica ascolti la scienza, che si rispetti l'accordo di Parigi del 2015 sulla riduzione di gas serra per contenere l'aumento della temperatura media globale, sarete giudicati dai vostri figli e dai figli dei vostri figli. Chi la critica le rimproverà ingenuità, mancanza di esperienza e realismo. Le rinfacciano di essere solo una bambina. Appunto. Nel gennaio 2020, al cinquantesimo forum mondiale di Davos in Svizzera, dove si discute il futuro del capitalismo, affronta Donald Trump, che esalta con toni trionfalistici la performance economica degli Stati Uniti, il gigante e la bambina. Greta insiste, per risolvere la crisi occorre vederla. Dall'Amazzonia all'Australia il mondo brucia. E lei chi è? Si prenda una laurea in economia e ne riparliamo, dice Stephen Nuchin, segretario al tesoro americano, laurea a Yale e un passato alla banca d'affari Goldman Sachs. Il suo nome è Greta.